Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Napoli 61926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis post partita di Lega-Varsavia-Napoli partita finita 1-4 per il Napoli alle 9 ho fatto uscire un video anzi ve lo metto qui in descrizione così almeno lo andate a guardare comunque Luciano Spalletti esordisce in conferenza stampa dicendoci eravamo incasinati prendendo gol che non dovevamo prendere abbiamo sbagliato tutto il possibile questo si riferisce al primo tempo ragazzi perché nel primo tempo il Napoli ha sbagliato veramente tanto poteva tranquillamente andare sull'1-1 con i godlinzerischi poi ha preso la traversa Piot detto questo però se noi andiamo ad analizzare l'ho già detto nel video precedente lì ci sono due sbagli sia D'Angissa che se lo lascia sfilare sulla destra lì va accompagnato verso l'esterno no che lo fai rientrare e poi sbaglia Rachmani che scalando troppo verso la porta si porta dietro tutti i difensori perché devi seguire il tuo compagno di reparto e quindi se lo porta dietro Elmas lì anche in ritardo però detto questo nel secondo tempo poi è venuta fuori la nostra qualità conclude Luciano Spalletti e questo è vero perché nel secondo tempo il Napoli si è vista tutta la qualità fra la differenza fra i Lega-Varsavia con tutto il rispetto per i Lega-Varsavia ragazzi perché se già sei punti nel girone qualcosa vuol dire se vince o pareggia con il Leicester ragazzi si può giocare veramente i sedicesimi di Europa League tranquillamente questa squadra quindi occhio anche a Lega-Varsavia in ottica futura per un eventuale passaggio del turno detto questo Spalletti poi gli fanno la domanda il turnover e lui risponde così si può chiamare così ma dal mio punto di vista meritano un po' vanno un po' difesi perché sono trattati da riserve e io li devo far sentire titolari quindi Spalletti spegne quell'entusiasmo che i giornalisti gli vogliono dare intorno a questo turnover lui lo dice chiaramente se volete si può chiamare così ma dal mio punto di vista meritano di essere difesi questi giocatori perché sono trattati come da riserve da voi giornalisti ma così non è ed è giustissimo ragazzi perché Lobotka come già detto potrebbe fare il titolare tranquillamente al posto di Angissà perché prima che arrivasse Angissà con l'infortunio di Demme giocava Lobotka insieme a Fabian Ruiz e hanno giocato alla stragrande questi due centrocampisti ragazzi e poi mi parlano di turnover Insigne non c'era per affaticamento muscolare Fabian Ruiz non c'era mi sa anche lui per affaticamento muscolare Ozyman uguale per infortunio quindi se noi andiamo a guardare il turnover per i giornalisti vuole cambiare uno due tre quattro Benitez lo spiega benissimo quando era a Napoli cioè per me posso cambiare un giocatore per me è turnover perché non è più nell'ottica degli undici titolari e Spalletti lo dice io questi giocatori li devo difendere perché non sono riserve cioè li devo far sentire titolari ed è per questo ragazzi che ha fatto giocare Juan Jesus ha fatto esordire Zanoli ha fatto entrare Unas lui lo dice siamo partiti in 18 e alcuni si lamentavano perché eravamo pochi no siamo pochi perché poi giustamente tre erano infortunati ma andavano bene così chi è venuto con noi a Varsavia ha giocato la partita egregiamente non ha fatto mancare tutti quegli altri giocatori e c'ha ragione Spalletti c'ha ragione anche qui nelle sue riflessioni c'ha ragione ragazzi è inutile dire Spalletti è un grande comunicatore lo sappiamo benissimo poi si va avanti parlano di Petagna in conferenza stampa è un calciatore diverso da Mertens e questo lo sappiamo tutti che Mertens è diverso da Petagna però lui lo ripetisce perché ve lo vuole far capire nel primo tempo hanno iniziato forte a pressare e non c'era la possibilità di uscire palla al piede e dargliela al Petagna è questo ragazzi lui lo sa gliela abbiamo buttato addosso ma Petagna è giocatore che non gliela puoi buttare addosso perché è più fisico di Mertens invece quando parla di Mertens lo dice proprio Mertens invece va servito sui piedi Petagna no Petagna va tipo servito e tipo Osimena nello spazio va bene Mertens nello spazio può trovare più fatica perché è più esile è più è più fino ragazzi ma si vede tantissimo Petagna ha fatto a botte ha fatto sportellare nella partita di ieri sera contro il Legia cioè e non è mai caduto una volta forse sarà accaduto due tre volte e ragazzi è così e Petagna vede continua perché poi dice Petagna invece fa salire la squadra è stato bravissimo nella lettura delle situazioni sul gol del 3-1 del Napoli a parte la grandissima giocata di Triss Mertens che fa un assist delizioso un cioccolatino c'è quella corsa verso la porta quel taglio verso la porta che vuole Luciano Spalletti da Petagna va bene non nell'allungo ma a tagliare la difesa non ad allungare andare verso l'area di rigore ma in verticale per farsi capire dai e praticamente questo vuole e lui l'ha detto ha fatto una partita una grandissima partita Andrea Petagna e c'ha ragione e c'ha veramente ragione Spalletti cosa gli vuoi dire Petagna ha fatto l'assist si meritava addirittura il gol il gol non è arrivato ma anche a Salerno è entrato ha spaccato in due la partita se Petagna non compigliava quella traversa il Napoli quell'occasione lì non l'avrebbe mai creata va bene e mi riallaccio un attimo all'introduzione di Spalletti perché dice il Napoli sa giocare partite difficili come quella di stasera abbiamo ribaltato l'idea che giochiamo solo sul velluto e c'ha ragione perché il Napoli le partite difficili quest'anno bene o male le porta a casa o pareggia a Roma o vince a Salerno perché vincere il derby con la salernetana era una partita veramente forse era la partita più difficile del girone d'andata a parte le big perché a Salerno ci avevamo tutti contro è normale è un derby ragazzi e quindi ha fatto bene a ribadire questa cosa e poi gli fanno il confronto sul doppio confronto delle leghe a Varsavia sia al Maradona che allo stadio di Varsavia due partite difficili ci hanno dato filo da torcere sia al Maradona e qui a Varsavia sono convinto che con il nuovo allenatore riusciranno a mettere le cose a posto in classifica e lei a Varsavia se non sbaglio è il quarto ultimo nel loro campionato però non è una squadra da buttare via e lo dice anche lui inizierò a seguirli quando riuscirò inizierò a seguirli perché meritano di essere seguiti questi ragazzi e qui ti fa capire lo spirito da minimo che c'ha Luciano Spalletti nei confronti anche delle altre squadre dice sì hanno cambiato allenatore e si è visto perché si è vista anche la differenza tattica ragazzi tra la partita del Maradona e questa qui di ieri sera perché leghia nel primo tempo ha prestato veramente alto cosa che non aveva fatto a Napoli va bene a Napoli aspettava e poi ripartiva invece qui bene o male ha provato a costruire l'azione nel primo tempo cosa che non ha fatto con il vecchio allenatore in effetti dopo la sconfitta perché mi si è perso un'altra volta in campionato è stato esonerato l'allenatore hanno preso quest'altro allenatore complimenti all'allenatore dell'Egia Passavia teneva quella bella giacca quel bel cappottone veramente bello comunque detto questo andiamo alle conclusioni poi dell'intervista e lui dice l'Europa League è una competizione che diventerà bellissima e noi nelle cose belle dobbiamo esserci e starci e non uscire qui c'è solo da fare applausi a Luciano Spalletti per quello che ha detto ed è giustissimo il Napoli merita merita di stare in Europa League merita di stare in cima al campionato merita di stare ovunque perché il Napoli merita anche di giocare l'Europa League il prossimo anno vi dico la verità se devo vedere il Milan che fa queste figurette il giurone è difficile ma è Napoli anche il Napoli che ha poi il Borussia Dortmund l'Arsenal e poi chi era la terza squadra non mi ricordo però il Napoli uscì a 12 punti il Napoli se la giocò il Milan ha giocato 40 minuti nell'arco delle 4 partite di Europa League di Champions League scusatemi quindi mi fa rabbia non vedere il Napoli ma questo dobbiamo ringraziare Gennaro Gattuso per le sue doti da allenatore dell'anno scorso comunque detto questo ha ragione Luciano Spalletti il Napoli deve essere nelle cose belle e noi tifosi ci dobbiamo essere nelle cose belle ieri ho letto la notizia che il tifo organizzato della Curva A ha trovato un accordo se così lo vogliamo chiamare con il comune di Napoli per non far ricevere delle multe ragazzi in tutti gli stati d'Italia stanno tutti accaccati nelle curve sono tutti ammassati tutti senza mascherina invece a Napoli non si può fare perché appena ti vedono ti fanno una multa da 1000 euro a me così non mi va bene se la legge è uguale è uguale per tutti invece no a Napoli lo sappiamo facciamo un po' le leggi come comandiamo noi comunque sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 ciao a you